Buongiorno, 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 nocce. Buongiorno, 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 buongior A promozio di Lazio la squadra di Simone Giaghi A promozio di Lazio la squadra di Atalanta-Lanzio La squadra di Atalanta-Lanzio La squadra di Atalanta-Lanzio La sedicesima giornata già scivolata via nel segno del VAR Contestato per il mancato intervento su episodi anche macroscopici Prosegue nel segno del VAR In Atalanta-Lanzio nel recupero e con le ragioni vantaggio 1-0 La situazione di fuori gioco è microscopica Ma ogni individuata che ho salto su indicazione di VAR Vanganiello annulla giustamente il paneggio di aceto Decide così darete al primo avvenuto di Zappara Un stato di grazia dopo la presenza di Udine Le Zappara A promozio di Tavara Non è colopiano 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 Se gli aggiamanti In corno Non rischi come in questo caso Con i uomini Che ha dato da grande periccia E hanno già un'altra parola Pensato Nella parola Che è un po' Che è un po' Ma dopo passare le minuti Le cose cambiano Lanzio che gioca Con un torna Siamo in basare. Siamo in basare. Sì, Bologna e Milano.